Quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, denunciando il bombardamento israeliano che ieri ha colpito una scuola diventata un rifugio per 12.000 persone nel campo profughi di Nuseirat, 18 le vittime, tra loro anche 6 operatori dell'Agenzia dell'ONU per gli sfollati. Si tratta di drammatiche violazioni delle leggi umanitarie internazionali e devono cessare immediatamente, ha detto Guterres. L'esercito israeliano ha risposto affermando di aver attaccato un centro di comando di Hamas nascosto all'interno della scuola. Negli ultimi mesi è successo altre volte che venissero colpite scuole rifugio usate, sempre secondo Israele, come scudo dai terroristi. Ieri il ministro della difesa, Gallant, ha mostrato un documento attribuito al comandante della brigata Khan Yunis di Hamas, è indirizzato al leader dell'organizzazione Yahya Sinwar e descrive la difficile situazione in cui si trova il gruppo terroristico che avrebbe perso oltre il 90% del suo arsenale missilistico e almeno la metà degli uomini. È un modo per il governo israeliano di rivendicare il successo dell'operazione a Gaza, ma intanto la guerra è sempre sul punto di allargarsi. Ieri, dal sud del Libano, sono stati sparati oltre 100 missili contro Israele, mentre in Cisgiordania la situazione è sempre più tesa. Nove palestinesi sono stati uccisi solo nelle ultime 24 ore, negli scontri tra gruppi armati e l'esercito israeliano che prosegue con la vasta operazione antiterrorismo lanciata nei territori occupati.